Marcosio, domenica innanzitutto tornerà in panchina dopo aver scontato i due turni di squalifica, ci sarà al Romeo Neri un ospite che occupa il terzo posto, ha più 4 rispetto a Rimini, il Real Vicenza che aveva impressionato tantissimo nelle prime giornate e adesso comunque sta svolgendo un buon campionato. Ma assolutamente, già penso la presenza mia in panchina possa giovare ai ragazzi e naturalmente chiedo scusa per tutte queste espulsioni, per tutte queste mancanze perché sicuramente la squadra ha anche bisogno la domenica del proprio tecnico, quindi questa è una cosa che mi preme dirlo, anche se effettivamente non tutte le squalifiche, anzi forse nessuna era prevedibile ed era meritata. Al di là di questo incontriamo sicuramente una squadra che sta facendo un campionato molto importante, una squadra allestita per vincere il campionato, quindi per stare nelle 8 di testa. Ha fatto un girone d'andata strepitoso, forse ultimamente sta pagando, forse visti i risultati un po' un calo, anche penso fisiologico, basta guardare in casa nostra quello che ci sta succedendo. Quindi è un po' l'incontro, lo scontro di due squadre che sono partite veramente forti e veramente bene e che stanno, non dico giustamente, ma faticando un pochino perché, come vi ripeto, è anche fisiologico che nell'arco del campionato ci sia un calo. Loro le ultime 4 partite mi sembra che hanno fatto 3 sconfitte e una vittoria, noi le ultime 4 partite 3 sconfitte e un pareggio, mi sembra, quindi siamo sulla stessa linea e sappiamo che sicuramente sarà una partita molto delicata, al di là di tutto. Ha un attacco importante il Real Vicenza, il miglior attacco della categoria, con anche il bomber che ha segnato la metà delle reti della sua squadra, 14 su 28. Stiamo parlando ovviamente di Danilo Alessandro. Sì, anche lì ci accomuna molto questo discorso, nel senso che togli a loro Alessandro avrebbero 13-14 punti, togli a noi Baldazzi e Nicastro e siamo anche noi messi male. Questa è una categoria dove la differenza la fanno veramente i giocatori importanti, l'Alessandro sicuramente nel Vicenza e non per trovare scuse, ma il Baldazzi e il Nicastro della situazione per noi sono veramente il 60-70% dell'organico della squadra. Perché? Perché sono due ragazzi che fanno anche molto bene la fase difensiva, quindi fa rispirare la difesa, fa rispirare l'attacco e il centrocampo. Sono realizzatori perché Nicastro con 8 reti e Baldazzi con 3, mi sembra, però creano sempre superiorità romerica, creano spazi se delle volte non fanno la giocata ma subiscono fallo, quindi sono giocatori veramente importanti per la nostra squadra. Ci sono venuti a mancare e guarda caso anche i risultati per noi sono venuti a meno. Dobbiamo fare con quello che abbiamo naturalmente, quindi dovremmo e dovrò mettere in campo una squadra ben equilibrata per chiudere questo girone d'andata nel miglior modo possibile. E' anche vero che noi sul campo abbiamo fatto 26 punti, abbiamo questa gara per chiudere il girone, per chiuderlo a 29 o a 28 su, diciamo, con questo punto di penalizzazione. E chiuderlo a 28 volrebbe dire aver fatto un girone d'andata forse esagero, strepitoso. Visto che nessuno se l'aspettava, abbiamo meritato questi punti e abbiamo questa gara proprio per dimenticare forse il periodo negativo che c'è stato finora. Un periodo negativo fatto di tre partite senza segnare neanche un gol, dopo 20 di fila con quelle che hanno concluso la passata annata, i play-out dell'anno scorso, in cui Rimini aveva sempre realizzato almeno una rete. Ecco, e l'attacco a chi si era affidato? Hai studiato qualcosa di nuovo? Vedremo la conferma di due punte, fa la morga con un trecortista delle spalle che però potrebbe cambiare, non catalano, ma Valeriani che è già tra l'altro giocato in quel ruolo con D'Angeli in panchina. Sicuramente, abbiamo ancora un po' di tempo per studiare questa formazione, è fuori dubbio che naturalmente le assenze ormai consolidate di Nicastra e Baldazzi non ci permette di fare quello che abbiamo fatto finora in modo esemplare, il 433 che ci ha divertito, che ci ha portato dei risultati. È vero che nelle ultime gare non siamo riusciti forse anche a tirare pochi in porta perché una squadra costruita in quel modo ci permetteva di andare al tiro perlomeno in molte circostanze. Dobbiamo sicuramente essere più consapevoli delle nostre forze anche con l'assenza di questi ragazzi e quello che forse manca al gruppo è la sicurezza di poter far bene anche con queste assenze. È normale che adesso abbiamo un po' di tempo ancora per studiare la formazione, non sappiamo anche l'entità del danno che ha subito Marco Brighi. Dovrebbe essere presente domenica in campo, lo stiamo valutando bene, lo stiamo monitorando. Naturalmente con Marco in campo sono leggermente più tranquillo, anche perché con la sua assenza dovrei anche inventarmi qualcosina di diverso. In avanti quindi possiamo confermare che probabilmente ci dovrebbe essere il duo d'attacco Morga-Falla confermato? Sì, penso di sì. Ho ancora un po' di tempo per valutare la condizione naturalmente di tutti. È fuori dubbio che Morga ha attraversato un periodo negativo, più che altro di testa, per tante vicissitudini. Penso che anche da parte sua ci sia questa voglia di dimostrare che è un giocatore importante per questa squadra. Sto valutando anche questo. Oggi come oggi non mi sento di dire la formazione, proprio perché abbiamo tante defezioni e dovrò capire chi sta bene. Perché domenica avrò in campo giocatori determinati, giocatori che hanno voglia di dimostrare che il campionato che abbiamo fatto è importante e per chiudere un'imbellezza. Quindi giocatori vogliosi, giocatori che mi possono dare garanzie. Catalano come sta? Tutto è rientrato, l'allarme per Catalano? Sì, sì. Ha preso soltanto una botta al ginocchio. Si è allenato senza grossi problemi. Anche lui può essere un giocatore naturalmente da sfruttare. Ti dico, però in questo momento non mi sento proprio di dare gli undici, proprio perché ho delle difficoltà vere e proprio di mettere in campo gli undici migliori. Abbiamo fortunatamente ancora un po' di tempo per studiarla e cercherò di fare il massimo di quello che abbiamo. Zanigni è convocabile comunque a disposizione? Zanigni è convocabile, come tutti gli altri. Teremo presente anche questo. Sicuramente è una partita delicata sotto tutti gli aspetti. Quindi, come ti dicevo prima, le motivazioni dell'ultima gara di andata, le motivazioni per chiudere il campionato del girone d'andata in modo impeccabile o esemplare, deve portare proprio alla mente, a buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Questa partita veramente si gioca sul cuore, sulla passione, sulla voglia veramente di portare a casa una vittoria o quello che sarà. Perché ne abbiamo le possibilità e lo vogliamo. Quindi devo capire veramente chi ha voglia di darci una mano e di darmi una mano e di dare una mano a tutti gli altri compagni per portare a casa un risultato positivo. Ecco, usciamo un attimo dal bianco-rosso per andare un po' in giallo-blu perché è stata una settimana un po' particolare anche per te, inserito nella top 11 di tutti i tempi del Parma. Insomma, credo un grande onore. Del resto il sindaco non poteva mancare in questa top 11 per i cent'anni del Parma. Sicuramente mi fa piacere che l'hai ricordato perché è stata una settimana molto importante, molto bella per me. Essere insegnato di un premio così importante per una società come il Parma e essere più che altro votato, perché è stata poi un'elezione dei tifosi giallo-blu negli 11 del secolo. Sicuramente, l'ho anche detto nelle interviste con i tuoi colleghi, che non penso di essere stato uno dei migliori giocatori della storia. Penso di aver lasciato un qualcosa di molto più importante e quindi essere negli 11 vuol dire essere considerato un uomo spogliatoio, un uomo d'immagine, forse uno dei più amati. Ecco, lì mi ritrovo come giocatore più forte del secolo e sono passati a Parma giocatori importantissimi come Zola, Verona, Spriglia e tanti altri che non hanno ricevuto questi voti e quindi mi riempie veramente di orgoglio e so che nella storia del Parma ci sono.